Alle 3.36, esattamente una settimana fa, il cuore dell'Italia si spezzava sotto le scosse del sisma che ha cancellato interi paesi. Piccoli tesori d'Italia che si sbriciolano come castelli di sabbia e assieme a loro anche le vite dei cittadini rimasti sotto le macerie. A distanza di giorni, altre sensazioni però prendono corpo in chi è più lontano dall'epicentro, ma condivide un territorio, una regione, una configurazione e composizione geografica simile. Le Marche, e così la provincia di Pesaro e il territorio fanese, sono esattamente come quelli colpiti. Gocce d'acqua, se non proprio, fratelli gemelli. Le scuole non ci sono più, le scuole dove i ragazzi, uguali ai nostri, siedono ai banchi di scuola. Già, le scuole, luoghi che per loro natura noi riteniamo sicuri e a cui affidiamo la vita dei nostri figli. Lo sono? Le norme vigenti in materia antisismiche all'oggi sono cose ben diverse da quelle in vigore 10-15 anni fa o addirittura 20-30. Dopo il terremoto del 6 aprile del 2009, quello dell'Aquila, tanto per capirci, è stato emanato un nuovo provvedimento per dare maggior impulso alla prevenzione sismica, con ben 965 milioni di euro spalmati in 7 anni. Ma qual è lo stato di salute delle scuole del nostro territorio? Comune per comune conosciamo lo stato dell'arte anche in virtù di quanto è successo il 24 agosto. Iniziamo il nostro viaggio nelle scuole incominciando con il comune di Cartoceto, che comprende tre scuole per l'infanzia, due scuole primarie e una secondaria. Tutte le scuole hanno avuto un'ispezione visiva da parte della protezione civile per valutare eventuali danni, crepe o allargamenti. Le scuole del plesso scolastico di Cartoceto, Ragnetti, via Peschiera 5, hanno avuto un adeguamento sismico con un investimento di oltre 100 mila euro. Non sono state eseguite verifiche sismiche né di staticità, Ma precisa il sindaco, prima della riapertura delle scuole sarà eseguita per ognuna delle scuole una perizia tecnica di agibilità e una relativa scheda tecnica.